Quali sono i sostegni psicologici? C'è la popolazione dei Campi Flegrei che continua a vivere un momento difficile anche questa notte trescossa. Secondo lei è ipotizzabile di fare un lavoro dal punto di vista degli psicologi anche lì? Ma io non drammatizzerei sinceramente, non drammatizzerei. Più che un lavoro psicologico, li dobbiamo far conoscere fino in fondo i piani di sicurezza che abbiamo aggiornato per quanto riguarda la sanità e il trasporto e soprattutto per quello che mi riguarda è arrivato il momento di fare approvare il piano di sviluppo e coesione della regione Campania che viene tenuto bloccato in maniera irresponsabile dal governo Meloni e dal ministro Fitto perché quel piano contiene un intervento di decine di milioni di euro per realizzare vie di fuga in caso di necessità dai campi flegrei. Siamo davvero di fronte a un atto di irresponsabilità totale del governo nazionale.